Come? La natura? Stai facendo questa domanda come donna o come banchiere? Se sei donna, la devozione è sufficiente. Se sei un banchiere, dobbiamo fare un sadhana che ti apra la testa e il cuore. Voglio che tu comprenda che la difficoltà del processo spirituale è determinata da te, non dalla natura e dal tuo guru. La natura, o l'esistenza, o il creatore, il tuo guru, stanno considerando come realizzarlo il più facilmente possibile, nel modo più semplice possibile, il più rapidamente possibile. Perché se te la prendi comoda, non si tratta della tua vita che va sprecata, si tratta della mia vita che va sprecata. Se non ce la fai, non si tratta del tuo fallimento, si tratta del mio. Vedi, non mi piace perdere, lo capisci? Non mi piace stare dalla parte dei perdenti. Vuoi capirlo? Dovresti vedere come guido per strada. Non mi piace stare dalla parte dei perdenti. Se sei qui come donna, è molto semplice. Ma tu sei tante altre cose. Le banche straniere sono difficili da gestire. Perché ci sono clausole nascoste. In ogni accordo che firmiamo c'è una clausola nascosta. È stampato in microstampa. Così ci vuole una vita per leggerli. Quindi la maggior parte delle persone li firma senza leggere. Quindi cancella tutte le clausole nascoste. Essere qui solo come donna, molto semplice. Se sei qui solo come uomo o solo come donna, è fatta. Non servirebbero tutte queste chiacchiere, sciocchezze e stupidaggini. Se solo faccio così, dovresti già essere presente. Quindi la devozione è un'altra dimensione dell'intelligenza che purtroppo il mondo di oggi ha perduto. Ora, quel ragazzino che suona il violino ha solo 16 anni. Non è molto lontano dall'essere, non è molto distante dal genio di suo padre. È piuttosto vicino. Ci vuole solo, ci vorrà poco tempo perché il ragazzo lo raggiunga. Ciò non è arrivato attraverso l'esercizio. Si è realizzato per via della pura devozione. Vedete come siede. Guardate come si siede accanto a suo padre, con grande amore e devozione. Guardate i suoi occhi. Lui guarda suo padre con quel tipo di amore e devozione. In questo, l'apprendimento avviene in un modo completamente diverso. C'era un santo favoloso. In Andhra Pradesh non c'è casa. In Andhra Pradesh che non abbia almeno un libricino su questo santo. Il suo nome era Vemanna. Il suo nome era qualcos'altro, ma lo chiamavano Vemanna. Quindi il suo nome è Vemanna. Quindi era con il suo guro e questo ragazzo è un poco stupido. È un accompagnatore un poco sciocco. È un tale sempliciotto che non capisce niente. Ne ho molti così e stanno andando alla grande. Possono ottenere qualunque cosa. Sono le persone intelligenti. Sono le persone che pensano di essere intellettualmente in gamba che si aggrovigliano in Isha. I sempliciotti vanno alla grande. Qualcun altro potrebbe pensare che lui sia una nullità. Ma guarda il risultato che sta creando. È fantastico. Quindi questo è un sempliciotto. È il bersaglio delle battute di tutti quanti. Un giorno, ma il guro accoglie con gentilezza questo ragazzo perché non è intelligente come gli altri. Quindi un giorno il guro ha un'importante funzione o un evento a cui andare. Così va al fiume per lavarsi e con i suoi vestiti piegati dice al ragazzo Tieni gli abiti in mano. Rimani qui. Non appoggiarli a terra perché il terreno è bagnato e si sporcheranno. Non appoggiarli. Tieni gli e basta. Tutto qui. Così il guro andò a fare il suo bagno rituale e lavarsi e quando usci il ragazzo li aveva appoggiati a terra. Gli abiti erano sporchi di fango e lui li aveva appoggiati a terra perché quando il guro lo aveva guardato lui pensò che avesse bisogno di qualcosa. Così li appoggiò a terra e corse verso il guro. È un tipo semplice. Una cosa alla volta. Non può gestire due cose alla volta. Perché queste sono due cose. Vestiti e guru. Due. È complicato. E il guro lo guardò. Ora deve andare da qualche parte. I suoi vestiti sono sporchi. E ripetutamente gli aveva detto non appoggiarli, non appoggiarli. E lui le ha appoggiati. Così gli diede un gessetto e gli disse, sciocco, non c'è nient'altro che tu possa fare. Siediti qui e scrivi solo, rama, 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 su questa roccia, nient'altro. Non puoi fare niente di meglio. Fai solo questo. Spero che la grazia scenda su di te. Siediti qui e scrivi, rama, 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 ancora e ancora nello stesso posto. Il ragazzo si sentì così pieno di vergogna, così addolorato perché aveva deluso il suo guru. Glielo aveva detto tante volte, ma in qualche modo non era riuscito a capirlo. Così iniziò a scrivere. Il guru se ne andò di corsa. Dopo l'intera giornata e alcuni eventi, tornò la sera e per prima cosa chiese di questo ragazzo. Dov'è? Perché si sentiva in colpa per la durezza con cui gli aveva parlato. Non si vedeva da nessuna parte. Oh, poi gli ho detto di scrivere rama e non gli abbiamo dato l'istruzione seguente. Forse è ancora lì. Andò a vedere. E il ragazzo stava ancora scrivendo rama. Il gesso si era consumato da molto tempo. Il suo indice e il pollice si erano logorati fino a qui. E stava ancora scrivendo rama, 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 rama. Il guru lo prese e lo abbracciò. E questo ragazzo, non so quanti, dovrebbe dirlo qualcuno che è ben informato su questo, scrisse centinaia di favolose poesie che ancora oggi, dopo centinaia di anni, ancora oggi non c'è nessuna casa in cui si parli la lingua telugu in cui non ci sia un libro sulle poesie di Vemanna. Quasi ogni casa ce l'ha. Chiunque possa leggere e scrivere nella loro casa ci sarà. E quasi tutti conoscono bene queste poesie. Una poetica brillante che è semplicemente scaturita dalla sua devozione. Quindi questo è ciò che la devozione può fare. Perché la devozione è un'altra dimensione dell'intelligenza. La devozione è l'intelligenza che puoi capire come un'intelligenza più grande quando hai imparato a tenere da parte il tuo piccolo intelletto. La devozione non significa fare ogni giorno puja, fare questo, fare quello. La devozione significa che il tuo coinvolgimento con la vita è così assoluto che persino tu non hai più importanza. Il tuo coinvolgimento in ciò che fai è così assoluto che chi tu sei non importa più. Allora sei un devoto. La devozione significa che sei privo di te stesso. Questa è devozione. Il tuo coinvolgimento nell'umanità il mondo. È chiudere. L'unico l'enative della vita è del suo diminuore. La devozione è la demica del pensio. La chiesa della chiesa della chiesa della chiesa della chiesa della shoota. Il nostro corso di conoscere la storia dell' pillomini, che è stato chiaro che li ha assolutamente giudizia del normale. La chiesa della chiesa della chiesa della chiesa della chiesa della chiesa della chiesa diiversela. Grazie.